E conosce tutto così, gente che sa che c'è gente che fa delle cose, va a trovarle e dice facciamola assieme. Sono Carlo Lucarelli e faccio lo scrittore. Mi chiamo Roberto Mantovani, sono di Bologna e faccio l'attore. E faccio parte di questo comitato per gli aiuti umanitari alle popolazioni in guerra. Sono Hermes Rizzi, faccio il fotogiornalista. Mi chiamo Costanza Farabegoli, sono medico e lavoro in ospedale a Imola. Nell'estate del 1995, dopo i fatti di Sedrenica, abbiamo sentito l'esigenza di rendere pubblico in una certa maniera il nostro desiderio di non essere indifferenti a quello che stava avvenendo già da tanto tempo nella regione dell'ex Jugoslavia. Roberto Roversi, 40 anni, una decina d'anni di teatro, in lavoro, in posta. Riempire il camion e caricarlo degli aiuti che abbiamo raccolto non è stato difficile. Ce ne siamo accorti proprio mentre stavamo facendo questa cosa. Perché in fin dei conti c'è tantissima gente che ha voglia di dare e di fare delle cose. Ed era bello vedere proprio crescere questo moto di solidarietà che nasceva spontaneamente. Semplicemente dal fatto che qualcuno sentiva che c'era qualcun altro che faceva e allora decideva di fare anche lui. E così è nata questa piccola associazione che abbiamo messo su in modo molto informale per concretizzare tutto quello che si poteva fare qua e portarlo di là. Quasi tutto quello che abbiamo visto l'abbiamo visto attraverso i finestre. del camion o delle macchine. Abbiamo attraversato quindi mezza bosca in questo modo e abbiamo visto in realtà molto importanti, molto significative come per esempio Mostar. Dalla cima del monte Igman si vede la conca in cui si trova Sarajevo. Il monte Igman l'abbiamo attraversato di notte. L'abbiamo attraversato in convoglio con tanti altri camion che di notte fanno quel pezzo di strada perché quando ci siamo andati c'era la tregua, però della tregua non si pida nessuno. Gli attivisti della Croce Rossa sono parecchi che ci hanno aiutato tutti a scaricare il camion e poi a sistemare le cose. Sono tutte persone che lavorano praticamente per niente. Tra gli attivisti della Croce Rossa per esempio c'è il segretario, questo signore che si chiama Ilmia, che è un serbo che ha deciso di rimanere nella Repubblica Bosniaca, di rimanere a Rasnezza, a Sarajevo, dove è nato, e di lavorare assieme alla gente con la quale è vissuto per tutto questo tempo. Scatola, pasta e semolino. Ci stiamo, ci stiamo, ci stiamo. Assi alla Venezia, ci stiamo. No, no. No, no! Niko, sp我要a! Simón questo. Periclopsazio, gentamizio, eritromizio, vitamina, protovitamina, uccatina, onda imax, piroxica, aspetta un momento, sul che faccio? Come antiacido, sempre per lo stomaco, come radicidismo. E' venuto qui come profugo, con la moglie, un figlio e una figlia, e loro due sono morti qui davanti all'ospedale, hanno buttato la bomba, ma figlio e figlia al momento sono rimasti uccisi e lui ferito in testa, ferito nelle gambe e ferito nella mano sinistra. Lui era imobile quattro mesi. E' venuto. E' venuto. E' venuto. E' venuto. E' venuto.